Raccogliamo i lampaccioni ed andiamo a conservarli freschi per l'inverno e sott'olio. Per conservarli freschi ho bisogno di sabbia, la prilevo dal mare e la lascio asciugare al sole. Dopodiché mi reco in montagna o in campagna. Appena individuo la pianta, la vado ad estrarre dalla terra. Il bulbo, come vedete, cresce circa 5-7 cm sotto terra. La vado ad estrarre aiutandomi con una piccola zappetta. Ed ecco la nostra cipollina. Ottimo raccolto, impiegando un'ora del mio tempo. I lampaccioni sono ricchi di vitamine e hanno proprietà diuretica dir poco sorprendenti. A noi interessa il bulbo, quindi la cipollina selvatica. Andiamo ad eliminare sopra gli steli e lasciamo solo i bulbi. Esattamente così come mostro in video. Adesso conserviamo per prima i muscari freschi, per l'inverno. Prendo una cassetta da riciclo. La ricopro con stoppa o plastica. E vado a cospattere il fondo con la sabbia. Ci poso le cipolline sopra. Facendo attenzione che l'ortaggio non si tocchi con l'alto. Devono essere bene sparse. Vado a ricoprire il tutto nuovamente con la sabbia. Senza lasciare gli angoli scoperti. Ovvero devono essere ben ricoperte. Esattamente così. Adesso la conserva delle cipolline fresche è pronta. La vado a conservare in un luogo fresco e buio. Dove si mantiene fino a un anno dopo. Adesso facciamo i lampaccioni sott'olio. Puliamo l'ortaggio. Eliminando la testa, ovvero la parte dove erano le radici. E la sfoglia intorno. La prima sfoglia, quella più dura. Alla fine la parte sottostante. Esattamente come mostro in video. Lavo, scolo e risciacquo per almeno tre volte. Fino a quando sono belle pulite. Alla fine le scolo. E lascio riposare per almeno tre o quattro ore. Fino a quando sono bene asciutte. Una volta asciutti, li metto in pentola. Aggiungo aceto bianco. Siamo in quarantena. Non ne ho abbastanza, ma non fa nulla. Lo mischio con quello rosso, fino a ricoprire i lampaccioni. Aggiungo mezzo cucchiaio di sale. Accendo il fornello a fuoco alto e lascio riscaldare fino a bollitura. Appena bolle, spengo il fornello e scolo. Non gettate via l'aceto usato, perché può servire per fare il detersivo per il bucato o per il bagno. Ve lo farò vedere prossimamente in uno dei miei video. Lasciamo raffreddare completamente i lampaccioni per tre o quattro ore. Una volta freddi, vado ad invasare. In vasetti ben sterilizzati prima. Metto tanti fino a raggiungere sotto l'orlo. Ad ogni vasetto aggiungo due foglie di alloro, ben pulite prima. Aggiungo olio extravergine di oliva, fino a ricoprire le cipolline. Vado a chiudere i barattoli. E la mia conserva dei lampaccioni sott'olio è pronta. Si possono conservare fino ad un anno dopo la preparazione. Ciao, alla prossima!